La paradontite è la malattia che distrugge progressivamente le strutture portanti dei denti. Abitudini alimentari, cura della bocca e consulti medici sistematici aiutano nella prevenzione. Il periodico recarsi dall'odontoiatra, dal professionista odontoiatra, per la terapia proprio di base, ripeto, la rimozione del tartaro, della placca, l'abitudine a una corretta igiene orale a casa, perché quella è fondamentale. E quindi tutta l'informazione su questo, perché laddove c'è una corretta igiene orale e soprattutto una correzione di alcuni stili di vita, quali l'abuso di fumo, l'abuso anche dell'alcol e tutto il resto, ovviamente c'è la possibilità di evitare l'evoluzione verso forme gravi di paradontite. Gengive sane per salvare i denti è il tema dell'incontro promosso a Foggia dalla SIDIP. Come società scientifica, società italiana di paradontologia e implantologia, abbiamo l'obiettivo di portare alla conoscenza del maggior numero possibile di colleghi l'esistenza e l'applicazione delle linee guida per il trattamento della parodontite. Riteniamo che raggiungere il maggior numero di colleghi sia molto importante, sia per dare delle indicazioni sulla corretta pratica odontoiatrica, che per fare in modo che poi la popolazione debitamente informata e coinvolta, responsabilizzata, poi sia la componente che usufruisce, poi che venga a beneficiare della possibilità di trattare una condizione così diffusa e prevalente come quella delle malattie paradontali ma delle parodontite in particolare.